buongiorno 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 a tutti voi buongiorno sono tornato sono tornato qui in diretta alla chiama n'estate pina ieri te la sei cavata egregiamente in questa prima ma devo dire che mi sei mancato mi sei mancato tanto ma mi ci dovrò abituare alla tua assenza perché pina tra poco avrai un'altra coconduttrice oltre me scopriremo poi chi è nelle prossime puntate ma appunto parliamo di quest'oggi quest'oggi altra giornata importante a livello politico con la crisi di governo il voto nella serata di ieri anche oggi la chiama n'estate va in forma ridotta per dar spazio appunto alla politica e alla crisi di governo ma oggi pina parleremo anche se in forma ridotta di tanti temi parleremo della questione legata agli stipendi dei docenti e del personale ata e poi parleremo con la nostra paola aspo immancabile non può mai mancare ma andiamo subito a presentare il nostro ospite già in collegamento il professor aldo ficara buongiorno buongiorno a voi e grazie per l'invito grazie a lei buongiorno dottor ficara allora io partirei da un sospunto che ci ha appunto suggerito da un sondaggio che è stato lanciato sulla sua pagina facebook che gestisce appunto sul suo gruppo facebook che gestisce e si è chiesto chiaramente agli iscritti quale sarebbe stato poi il giusto compenso o meglio un'aggiunta al compenso attuale degli insegnanti e del personale ata e circa l'ottanta per cento poi delle persone presenti nel gruppo ha votato 400 euro ieri c'è stata appunto giornata convulsa sia a livello politico ma anche di scuola c'è stata una riunione cosa si è detto ci ci illumini e allora praticamente è vero l'ottanta per cento ha votato per cioè ha auspicato un aumento di 400 euro euro lordi su un quattro opzioni che erano un aumento di cento euro l'aumento a tre cifre tanto decantato dal dal governo 100 euro lordi e 200 euro era la seconda opzione che si riferiva a tante proposte provenienti da associazioni da sindacati della scuola poi la terza era 300 e la quarta appunto 400 che ha ottenuto l'ottanta per cento questo la dice lunga sul fatto che gli stipendi degli insegnanti siano ultimi nella pubblica amministrazione siano ultimi in europa tra tra gli insegnanti quindi questo comune denominatore di essere ultimo da da ogni parte la dice lunga su quelle che sono le considerazioni di una professione che dovrebbe essere strategica perché gli insegnanti sono coloro che dovrebbero guidare anche anche le giovani menti no all'interno del del nostro paese le facciamo sentire un servizio esatto e poi lo commentiamo insieme che racconta un po e fa una fotografia sulla situazione sono giorni importanti per il settore della scuola in particolare per quello che riguarda gli stipendi di docenti supplenti e personale ata i loro sindacati rappresentativi sono convocati proprio in questi giorni per discutere la trattativa che porterà alla stipulazione dei contratti per il nuovo triennio ma ad aiutare forse questa trattativa viene in aiuto un rapporto che per la prima volta anticipa la sua uscita ed esplicita la situazione salariale dei docenti europei con tabelle di riferimento all'anno scolastico 2020-2021 i dati emersi da questo rapporto lasciano però il solito rammarico viene detto che agli insegnanti italiani viene corrisposto un salario medio annuale pari a 8 mila euro in meno rispetto ai colleghi europei gap che aumenta fino a 11 mila euro dopo un servizio di 15 anni in questo scenario anche 60 70 euro al mese avrebbero fatto comodo ma i sindacati vogliono sicurezza nel tempo e non piccoli aiuti e per questo decidono di fare leva sulla pubblica amministrazione tenendo duro la concomitanza con la crisi di governo pone le aspettative su questo incontro pari quasi allo zero nel caso in cui dovesse cadere l'amministrativo attuale si dovesse andare alle elezioni anticipate gli investimenti per il personale della scuola come anche le riforme attualmente in atto sarebbero messe in pericolo a questo castello di sabbia aggiungiamo anche la questione che riguarda i compensi previsti per i supplenti docenti senza cattedra che vengono spediti da una scuola all'altra potrebbe già bastare il disagio professionale che sono tenuti a vivere questi docenti ma perché non aggiungere la mancanza delle retribuzioni a loro promesse in questi giorni infatti le segreterie delle varie scuole vengono letteralmente assaltate da supplenti che non hanno percepito i loro compensi ricevendo come risposta che la cosa non dipende da una mancanza specifica della scuola ma da un sistema statale fallimentare ma forse in questa vicenda ci si è dimenticati l'importanza che ha la tutela di coloro che formano le menti del futuro lasciandoli soli tra i loro problemi e la loro sorte verrebbe da dire che qualcuno pecca di hubris qualcuno che non ci si aspetterebbe perché è lo stesso che dovrebbe garantire equità e per questo servizio ringraziamo analisa colavito e tommaso rocchi e lorenzo rocchi lorenzo rocchi era una battuta lorenzo rocchi che ha redatto questo questo servizio e appunto professor ficara cosa ne pensa quello che è stato detto è tutto vero il problema è che non dare ascolto a una categoria di professionisti come dicevo prima che crea il cittadino del domani si rischia proprio di non fare andare avanti questo paese io ci tengo a dire che all'interno della pubblica amministrazione i docenti della scuola come retribuzione sono gli ultimi addirittura percepiscono uno stipendio quattro volte inferiore rispetto ad esempio ai magistrati a tre volte inferiore rispetto a chi fa le carriere prefettizie e diciamo eravamo vicini come come insegnanti sempre agli ultimi posti ai ministeriali soltanto che ai ministeriali è stata rinnovato il contratto con degli aumenti mentre gli insegnanti sono rimasti orfani di questo rinnovo del contratto ora vedendo le notizie di questi di questi giorni cioè la caduta del del governo è chiaramente le aspettative sul rinnovo del contratto certo si complicano anche l'inflazione non aiuta dobbiamo dire esatto esatto le volevo chiedere proprio professore anche le motivazioni no perché ora c'è questa crisi di governo che complicherà sicuramente per tutta l'estate la situazione ma le motivazioni sono insite anche ad esempio nell'inflazione che sta colpendo il nostro paese però non solo perché se agli statali è aumentato e agli insegnanti no non è solo l'inflazione ma io aggiungerei un'altra cosa cioè all'interno della del gruppo insegnanti ci sono quelli più sfortunati per esempio ci sono migliaia di insegnanti che per effetto della legge 107 la legge del 2015 che ha mandato nelle emissioni ruolo insegnanti in tutti i territori italiani quindi diciamo staccandoli dalle terre natie e questi non so dalla sicilia per andare in piemonte se non nel veneto e lombardia hanno disgregato non solo le famiglie abbiamo perso per un momento il nostro ospite vediamo di recuperarlo eccolo è tornato professore dottor figara mi scusi se la interrompo però è doveroso anche parlare della situazione della della condizione anche dei supplenti sì quella quella è ancora peggiore perché loro stanno proprio ai livelli minimi minimi di una retribuzione che è minima cioè stiamo parlando di 1350 euro netti mensili e pensate a una persona che e sono tante che dal sud per trovare il lavoro venga trasferita nelle regioni del nord con 1350 euro si ha la sfortuna di prendere una cattedra in una città tipo milano torino quindi una grande città solo l'affitto di un appartamento riduce lo stipendio che si va a prendere al di sotto del reddito di cittadinanza ecco il problema cioè questi insegnanti poi non hanno più la serenità di svolgere bene il loro lavoro è chiaro devono pensare a come arrivare alla fine anche perché anche perché obiettivamente se come diceva lei prima nel suo ragionamento si trasferiscono in altre regioni devono pensare oltre che chiaramente a vivere anche all'affitto alla casa eccetera oltretutto se sono precari la situazione è critica la discussione va avanti eh Patrizio Bianchi il ministro Bianchi eh aveva parlato di una risoluzione entro l'estate io sinceramente la vedo dura secondo lei eh andrà avanti oltre l'estate e entrerà nel prossimo anno scolastico ecco cosa cambierà da settembre a livello retributivo nulla perché con la caduta del governo si blocca anche quelle perché eravamo arrivati a una fase di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive perché effettivamente quelle che c'erano erano insufficienti quindi non dovrebbe cambiare nulla e per quanto riguarda poi tutte quelle che sono le 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 possibilità negative che arriveranno in autunno cioè eh si parlava prima di un affitto in più per coloro che vengono trasferiti ma qui c'è un'altra spada di Damocle che è quella delle bollette cioè le bollette gli aumenti indiscriminati delle bollette su stipendi di un certo di un certo tipo dottor Ficara però mi scusi questa è una condizione che accomuna tantissimi lavoratori non solo i docenti bisogna risolvere a monte questo è vero questo è vero però io faccio un distinguo tra non so una parità di professionalizzante con la delicatezza che ha questo questo lavoro cioè se a livello retributivo si demotivano eh gli insegnanti c'è una ricaduta sugli studenti e sugli studenti sulle famiglie su tutta la società perché l'insegnante dovrebbe essere a mio parere libero da problemi perché dovrebbe dovrebbe impegnarsi è un po' utopistico diciamo dovremmo tornare dovremmo tornare come citato eh dal nostro Lorenzo Rocchi alla Iubris diciamo al Tempio Greco ecco dove l'insegnante era comunque visto come una figura fondamentale della società e non magari come un libro da sfogliare e aprire noi la ringraziamo purtroppo il tempo è tiranno la torneremo a disturbare ci risentiamo con più calma grazie in bocca al lupo e buon lavoro grazie 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 a tutti